Eccoci ancora insieme, avete già capito perché altre volte è accaduto quando stiamo in questa postazione con Tony è perché abbiamo degli ospiti in studio, in particolare oggi graditissimi e blasonatissimi. Lasciatemi usare anche questo aggettivo, ma sono anche grandi amici perché quando si parla dell'opera di Padre Pio di Casa Sollevo della Sofferenza si parla comunque per noi tutti di qualcosa verso la quale abbiamo affetto oltre che naturalmente grande attenzione. Per cui buongiorno, ben arrivati ai ricercatori, tra poco scoprirete anche tutte le altre specifiche qualifiche, Gianluigi Mazzoccoli e Vincenzo Giambra. Ben arrivati. Ben trovati. Parliamo di cose importanti oggi. Io dal punto di vista dei risultati, quando ho letto che è stato pubblicato su Nature l'esito di una ricerca naturalmente ho avuto tutti i campanelli del mio mestiere che sono risuonati e quindi visto che non si tratta di cose semplicissime da spiegare vorrei subito cominciare parlando di, aprendo con un termine che è cronobiologia e naturalmente anche aprendo con il termine cancro, tumore. Innanzitutto professore, anche se forse abbiamo anticipato fin troppo, che cosa significa questa ricerca? Perché la novità è talmente importante da richiedere questa pubblicazione? Allora, delle precisazioni. Non è stata pubblicata su Nature, ma è stata una rivista del gruppo Nature e quindi comunque è una rivista importante perché il gruppo Nature e il gruppo Springer Nature seleziona in maniera molto accurata e molto rigorosa le testate scientifiche a cui fa riferimento. Per quanto riguarda la ricerca è una conferma importante, c'erano già delle evidenze che risalgono circa 5 anni fa, quelle pubblicate su Nature, c'è stato un articolo pubblicato su Nature che ha messo in evidenza che andando a interferire con il normale funzionamento dell'orologio molecolare che è presente in tutte le cellule e anche in quelle neoplastiche si riusciva a modificare il fenotipo delle cellule neoplastiche, ridurne la sopravvivenza, aumentare la sensibilità alla chemioterapia e alla radioterapia. Questo è un passo molto importante perché chiaramente l'approccio alle malattie neoplastiche deve essere effettuato su vari piani, su vari fronti. Sicuramente la chemioterapia, sicuramente la radioterapia, ma riuscire ad impattare direttamente il funzionamento molecolare della cellula, andando a modificare e ad alterare e a bloccare un meccanismo fondamentale per la cellula, è sicuramente un vantaggio enorme. Permette di eventualmente ridurre anche i dosaggi dei chemioterapici con una riduzione degli effetti collaterali. I problemi della chemioterapia sono gli effetti collaterali sulle cellule dei tessuti normali. In tutte le cellule, sia normali che neoplastiche, c'è questo orologio molecolare circadiano che regola tutti i processi cellulari, tutte le funzioni cellulari e tutti i processi biologici in maniera ritmica. Tutte le funzioni dell'organismo, tutti i ritmi comportamentali sono ritmici, sono organizzati su una ritmicità con un periodo di circa 24 ore. Questo perché al momento risiediamo sul pianeta Terra. Tutti i pianeti del Sistema Solare ruotano sul proprio asse, con velocità diverse, più veloce Giove che riesce a completare il ciclo in pochissime ore. Il ciclo lungo è quello di Venere, siamo quasi a 250 giorni. La Terra e Marte sono assestati sulle 24 ore. Il fatto che ci troviamo sul pianeta Terra insieme a una marea di organismi e eventi che ci fanno compagnia sia animali che vegetali, ci costringe in un certo senso ad adattarci a questo ritmo. Quindi la principale impostazione dell'etimicità degli organismi è sulle 24 ore. Si parla di ritmo circa di anno, da circa un giorno, di S, circa di S. Ora, anche le cellule neoplastiche hanno questo orologio molecolare. Rispetto alle cellule normali, se noi andiamo ad alterarlo, la cellula neoplastica ha una ridotta capacità di ripararlo e di compensarlo. Questo dà un vantaggio enorme. Bisogna specificare che esistono cellule neoplastiche con un orologio molecolare perfettamente funzionante, per cui il vantaggio lo si ottiene andando a bloccarlo. Altre, ci sono recenti evidenze con il neuroblastoma, che è una malattia pediatrica gravissima, letale, con ridotte capacità di approccio terapeutico, in cui l'orologio molecolare non funziona. E lì bisogna fare un discorso diverso, cercare di attivarlo. E questo, si è notato, riesce a ridurre la capacità di aggressione delle cellule neoplastiche. Quindi, una cosa è sicura, l'orologio molecolare è una componente fondamentale di tutte le cellule, normali e neoplastiche. A seconda del funzionamento, va targhettato in un certo modo. Negli ultimi anni, sono state scoperte numerosissime molecole di sintesi che riescono a bloccare o ad attivare le singole componenti dell'orologio molecolare. L'orologio molecolare circadiano è un meccanismo molecolare complesso. Non entro nei particolari, perché sono veramente difficili. E questo ha reso un po' ostica questa disciplina. È difficile, è difficile, è complicato fare gli esperimenti. E lei quando l'ha scelta, visto che è così difficile? Allora, è stata... ci ha messo, diciamo, del suo il destino. Perché io ero all'Università di Firenze. L'Università di Firenze, negli anni Ottanta, insieme all'Università di Milano e all'Università di Roma, era uno dei tre centri in cui c'erano i centri di iconobiologia. Era una disciplina che era andata negli anni Sessanta, grazie al professor Alberg, professor Hauss. Il professor Alberg era in America, a Minneapolis, nel Minnesota. Aveva creato questo centro di iconobiologia e lui veniva a insegnare ai professori italiani questa disciplina. Io mi sono trovato che stavo compilando la tesi in un centro di endocrinologia. Nel posto giusto al momento giusto. Ho conosciuto il professor Alberg, mi ha seguito con la tesi, era una persona meravigliosa. Uno scienziato vero, pulito, senza interessi economici, senza nessun compromesso, senza nessun conflitto di interessi, a differenza purtroppo di tante personalità anche attualmente coinvolte in varie situazioni. E quindi mi ha fatto appassionare. Ho continuato a studiarla e quando sono arrivato a Casa Sollievo il 20 settembre del 1991, ho cominciato a fare attività di ricerca clinica e diciamo che sono riuscito all'epoca ad ottenere dei risultati assolutamente originali, che ancora adesso destano molta attenzione. La cosa che mi piace sottolineare è che progressivamente sono riuscito poi a collaborare con il laboratorio di ricerca, sono riuscito a sviluppare le mie attività di ricerca e questa è una pericolarità dell'ospedale di Paterpio. Attualmente, anche se non ufficialmente riconosciuto, il mio laboratorio è all'avanguardia in Italia e nel campo della ricerca oncologica in Europa. Ci auguriamo che quanto prima questo laboratorio venga ufficializzato, in modo anche da poter presentarsi all'estero in un certo modo. I risultati comunque sono assolutamente interessanti. La cosa positiva, se ci sono risultati nel glioblastoma, che non sto qui a spiegare quanto sia letale, si è visto che andando a interferire l'orologio biologico nelle cellule staminali del glioblastoma si bloccano le cellule neoplastiche senza alterare né i neuroni né le cellule staminali né i neuronali. È un approccio fondamentale, questa è una ricerca che è stata pubblicata su Cancer Discovery, che è uno dei massimi giornali nel campo della ricerca oncologica, e che dimostra quanto sia importante questo approccio. Poi si può accostare qualunque tipo di intervento, ma è fondamentale non trascurare questo approccio. Ed è fondamentale, molto importante quello che state facendo, di cui vi siamo molto grati, perché sono tanti i pazienti affetti da emopatologie. Io chiederei al dottor Vincenzo Giambra alcune informazioni focalizzate sulla leucemia, magari la leucemia acuta e la linfoblastica acuta. Sì, grazie dell'invito. La leucemia acuta è un tumore del sangue. Il termine acuto indica che c'è una progressione molto rapida e veloce. Nello specifico, la leucemia linfoblastica acuta è caratterizzata da un'espansione di un particolare tipo di cellule di globuli bianchi nel midollo e negli altri organi ematopoietici, che porta a un eccessivo accumulo di queste cellule nel sangue. È una delle leucemie più frequenti a livello pediatrico. Considerate che ha un picco tra i 0 e i 5 anni, però è frequente anche negli adulti. Tra tutte le leucemie è circa l'80% in frequenza e il 25% tra tutti i tumori pediatrici. La ritroviamo però anche nell'adulto con una capacità di cura abbastanza limitata. I nostri studi, insieme a quelli di altri laboratori, hanno evidenziato che questa leucemia è molto diversa, ma molto eterogenea. È caratterizzata da un particolare tipo di cellule, che noi chiamiamo cellule staminali leucemiche, perché hanno proprio l'obiettivo di mantenere o di propagare questo tipo di malattia. Questo studio, evidenziato proprio come l'orologio biologico, è in grado di mantenere l'attività di queste cellule. Speriamo che, soprattutto con le attività che si stanno svolgendo nell'istituto di ricerca, questo studio potrebbe andare avanti. Io, visto che ci sono anche delle altre foto, vorrei che accennassimo anche al gruppo di ricercatori. In particolare ci ne sono alcuni che hanno collaborato, come Emanuele Murgo, Elisabetta De Santis. Adesso li vedrete anche a tutto schermo, perché è giusto appunto questo riconoscimento. Come li coltivate questi ragazzi in laboratorio? Assolutamente. Ma sono persone che fondamentalmente sono molto, molto volenterose. Noi potremmo anche frustarli, ma se non hanno voglia di lavorare e di imparare, sicuramente. Anche, ripetisco, puoi frustare un somaro e non diventerà mai un cavolo di cose. Sono persone in gamba. Il dottore Emanuele Murgo è appassionatissimo e sta crescendo veramente bene. È appassionato anche alla cronologia, alla biologia molecolare, gli interessa moltissimo, gli piace molto. È entrato adesso nel dottorato e sta crescendo bene. Al di là di quello che possiamo fare, però certamente siamo delle guide importanti. Noi ne vogliamo parlare perché vorremmo tanto che tutti i ragazzi bravi restassero in Italia. Sono fondamentali. Senza il loro lavoro noi non potremmo fare niente. Possiamo avere le idee. Per l'attuale, loro sono fondamentali. È fondamentale che ci siano mani adeguatamente preparate e che vogliono lavorare. E poi voglio citare anche Francesca Sanzico, Sanzico, Mattia Colucci e Costanzo Padovano. Quindi un bellissimo team e anche altri, naturalmente, che sono collaboratori. Secondo lei quanto è importante che la gente sappia quanto costa tutto ciò dal punto di vista dei numeri? Visto che ormai, purtroppo, nel nostro tempo sembra che conti innanzitutto capire di una cosa banalmente il costo. I costi della ricerca sono enormi. Il problema italiano è che non sta dedicando, assolutamente sta riducendo il percentuale del prodotto internazionale destinato alla ricerca. E questo è in contrattendenza con tutti i paesi europei. Le faccio capire una cosa. Noi applichiamo per grant che hanno un valore di 400-500 mila euro. Io faccio parte del panel di revisori di grant internazionali e applicano in Germania per grant di 2 milioni di euro. Questo le dà l'idea minima della sproporzione. Neanche un quarto in Italia. Neanche un quarto. Ma questo chiaramente si associa anche a riduzione degli spazi, riduzione della strumentazione, mancato aggiornamento della strumentazione. Noi siamo sempre in rincorsa. Adesso poi c'è la marea gialla. I cinesi sono entrati in maniera prepotente, non sempre corretta nella competizione. Hanno una marea di soldi, comprano tutto quello che vogliono, testate, università americane, tutto quello che vogliono. Però diciamo, dalla parte nostra abbiamo l'intelligenza degli italiani, che vi assicuro, non voglio dire che è superiore a tutti, ma non è inferiore a nessuno. La creatività è la stessa cosa, o almeno alla parte. Un po' diverso, diciamo alla parte. Diciamo sì. No, no, non è alla parte, non è inferiore. E questo ci aiuta, però chiaramente abbiamo bisogno di organizzazione, un elemento burocratico. Una cosa semplicissima, se ci togliessero l'IVA dall'acquisto di materiali che vincevamo con i grandi, avremmo un 22% in più. È assurdo che noi dobbiamo andare a pagare l'IVA sui prodotti. Al 22%? L'IVA al 22%. Hanno portato per i pannolini, quindi figuriamoci per il resto. È chiaro, sono delle cose che fanno cassa su tutto. Non mi sembra corretto. La ricerca va sostenuta perché è il futuro. Se poi si vuole bloccare il futuro, questa è la strategia. L'importante è capire cosa vogliono fare a livello politico. Dobbiamo sostenere la ricerca e io condivido appieno le perplessità del dottor Ramazzoccoli. Purtroppo il tempo si è vaporizzato. Però noi confidiamo proprio nella vostra chiarezza per tornare a parlare di ricerca in senso lato. E naturalmente non possiamo che essere grati a chi ha voluto questo ospedale, che ha reso anche questa parte d'Italia un'eccellenza. dall'alto e anche a scendere a tutti. Assolutamente. E lui è il principale ispiratore, padre Pio. Quindi il nostro grazie al vostro prezioso lavoro e sicuramente l'invito a ritrovarci di nuovo qui per continuare a parlare dei preziosi traguardi che appunto con il vostro lavoro poi beneficiamo tutti. Anche nuovi possibilmente. Vincenzo Giambra e Gianluigi Mazzoccoli, tante grazie ancora. Grazie a voi, grazie a voi veramente. Linea alla regia. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.